Perché in una giornata così il Ministro degli Esteri lo riusciamo veramente a bloccare per pochissimi minuti. Ministro Tajani, buongiorno, buon pomeriggio e grazie che nello slalom dei suoi impegni siamo riusciti a fermarla un istante. Allora, dove siamo? Lei immagino da stamattina avrà sentito tutti, per cui chiedo a lei di farci il punto a quest'ora. Il punto è di grande attesa perché bisogna comprendere cosa farà esattamente il governo israeliano, se reagirà e come reagirà, pare che voglia reagire, ma vediamo come, al controattacco iraniano. Noi invitiamo tutti quanti alla prudenza, condannando l'attacco dell'Iran a Israele, però credo che ottenuta anche una vittoria militare, perché quasi tutti i droni e i missili sono stati distrutti in volo dalla difesa aerea israeliana, con il contributo anche di francesi, americani e probabilmente anche di britannici. E quindi c'è stato un successo da un punto di vista militare. Soltanto due radi sono arrivati su una base aerea nel deserto, provocando pochi danni. Il Presidente del Consiglio, Meloni, ha convocato per oggi pomeriggio una riunione del G7. Io ho convocato tutti gli ambasciatori dei paesi arabi, dei paesi musulmani, per fare il punto della situazione e io credo che il G7 invierà un messaggio di prudenza, pur condannando l'attacco iraniano, inviterà la prudenza e sono convinto anche che ci sarà un messaggio per un cessato il fuoco nella striscia di Gaza in modo da poter permettere la liberazione degli ostaggi e di portare aiuti alimentari alla popolazione civile. Nel frattempo stiamo organizzando il G7 degli esteri, io incontrerò martedì sera il Ministro degli Esteri canadese, incontrerò mercoledì Blinken e poi mercoledì sera, giovedì e venerdì a Capri ci sarà il G7 degli esteri. Quindi il primo punto e fondamentale punto all'ordine del giorno è la situazione in Medio Oriente. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare assolutamente per una de-escalation. Abbiamo una grande responsabilità, non è facile ma dobbiamo essere determinati e quindi cercare di essere sempre più costruttori di pace. Voglio attraverso la sua trasmissione, grazie per l'invito Monica, anche rassicurare i nostri cittadini che hanno familiari che sono o nel contingente militare o che vivono in Israele o che vivono a Teheran. I nostri militari sono al sicuro. Il Ministro degli Esteri iraniano mi ha assicurato che non ci sarebbe stata nessuna azione che avrebbe potuto colpire i nostri militari, che c'era grande rispetto per il nostro contingente. Sono in costante contatto con l'ambasciata d'Italia a Tel Aviv, con il nostro Consolato a Gerusalemme. Sono i nostri diplomatici a disposizione degli italiani che vengono là. Al momento non abbiamo segnalazioni di problemi. Lo stesso sta accadendo a Teheran. La nostra ambasciata lavora 24 ore su 24. Sono circa 450 gli italiani residenti lì. Per prudenza è stata sospesa l'attività nella scuola italiana. Si lavora i smart. Può essere che domani, se le cose continuano a essere calme, potrà si portare a ricominciare l'attività scolastica normale. Nel frattempo, l'unità di crisi del Ministero degli Esteri ha a disposizione di tutti i cittadini italiani che volessero avere informazioni, magari se hanno parenti militari o parenti che vivono in Iran o in Israele, per essere rassicurati. Ma li voglio anche rassicurare attraverso la vostra trasmissione. Un'attività fondamentale, lo ricordiamo, l'unità di crisi della Farnesina è davvero un riferimento in questi momenti per chiunque abbia una preoccupazione diretta per un suo familiare. Ministro, so che ha pochissimo tempo, ma lasci che io condivida con lei quello che è un mio dubbio, una mia preoccupazione privata, dentro questa storia, dentro questa tensione medio orientale, lo ricordiamo tutti, iniziata con la sciagurata attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre, però continuata poi con una serie di attacchi incrociati nella regione che hanno portato fino alla situazione di ieri sera, abbiamo sentito tantissime volte il richiamo alla moderazione, al buonsenso. Lei lo ha ripetuto anche qui da noi tante volte, il presidente americano Biden ne ha fatto un elemento centrale anche della sua politica americana in queste ore. Il timore, condiviso da tanti, da tantissimi analisti, e anche ho sentito in queste ore, è che questo richiamo al buonsenso possa fallire in un momento in cui avrebbe degli effetti nefasti. Lei ha la sensazione che stiamo andando in una direzione o in un'altra? Non le chiedo certo di fare le previsioni impossibili, ma di aiutarci a capire. Ma tutto dipende da quello che farà il governo di Israele e se l'Iran non lancerà altri attacchi, come ha detto di voler fare, quindi aver concluso la reazione al bombardamento del consolato di Teheran in Siria. Vedremo quale sarà la reazione del governo israeliano, credo che siano ancora riuniti. Speriamo che prevalga anche a Tel Aviv il buonsenso, perché ormai c'è stata la vittoria militare e credo che si possa chiudere con questo successo militare israeliano questa vicenda. Fermo restando che si continuerà a combattere nel nord di Israele, al sud del Libano, ci saranno ancora scambi di lanci di missili tra Esbolla e truppe israeliane al nord, ma mi auguro che non ci siano più conflitti diretti Israele-Iran. C'è un altro problema che mi sta particolarmente a cuore, che è quello del Mar Rosso. Ho chiesto al ministro degli esteri iraniano di farsi parte di gente presso gli UTI per far sì che le navi mercantili italiane non vengano colpite. Anche lì ho avuto assicurazioni, mi è stato detto che soltanto le navi israeliane o che portano armi israeli verranno attaccate. Comunque lì c'è la nostra marina militare che è vigile e protegge il traffico mercantile. Speriamo anche che venga liberata la nave di parte di proprietà israeliana che è stata sequestrata ieri dai Pasdaran. Allora ministro, senta, io appunto consapevole della giornata e degli impegni, la ringrazio e mi fermo qui. Ovviamente lei sa che siamo in diretta e stiamo cercando di raccontare in diretta lo sviluppo di questo momento di estrema tensione, quindi qualsiasi cosa possa accadere e cercheremo insomma di ridisturbarla sapendo che le prossime ore, i prossimi giorni saranno chiave per scongiurare il fatto che questo diventi un conflitto di proporzioni sempre più grandi e i vari pezzi che ci sono là fuori possano saldarsi insieme. Grazie ministro Tajani.